Nato il 20 maggio 1965 a Rovereto, in provincia di Trento, vive a Miami negli Stati Uniti, dove nel 1996 debutta in tv nella sitcom The Nanny, trasmessa in Italia con il titolo La Tata. Nello stesso anno debutta al cinema con un piccolo ruolo nel film Tutti dicono e lo viù. Regia di Woody Allen, tra i suoi primi lavori italiani. Ricordiamo, le miniserie tv ultimo, 1998, regia di Stefano Reali, e Caraibi, diretta da Lamberto Bava, è il film Un tè con Mussolini. Regia di Franco Zeffirelli, gli ultimi due lavori entrambi del 1999. La serie tv Le stagioni del cuore. 2003, diretta da Antonio Luigi Grimaldi ed infine la miniserie tv ha sposato un calciatore. 2005, regia di Stefano Sollima, nel 2001-2003 e il protagonista della serie franco-canadese Largo Winch, nel 2007 appare in televisione nelle vesti di Martino Ristori nella miniserie in otto puntate di Canale 5, la figlia di Elisa Ritorno a Rivombrosa, diretta da Stefano Alleva, nel 2008 e sugli schermi cinematografici con il film Carnera The Walking Mountain, diretto da Renzo Martinelli, e successivamente con la miniserie tv Carnera il campione più grande. Versione per il piccolo schermo dello stesso film. Nel 2011 partecipa a Baila, come concorrente, formando una coppia di ballo con l'attrice Marianna De Micheli e torna in televisione con un amore. È una vendetta con Anna Valle e Alessandro Preziosi. È sposato dal 2001 con l'attrice Carlotta Cheng da cui ha avuto cinque figli.